Sono in pieno svolgimento ad Alcamo i festeggiamenti in onore di Maria Santissima dell'Alto con pellegrinaggi, celebrazioni nel santuario della Madonna dell'Alto appunto che è situato sulla cima del Monte Bonifato. Stasera un pellegrinaggio con la partecipazione di molti giovani guidati da Don Enzo Santoro. Salutiamo Don Enzo Santoro assieme a lui chi per la congregazione di Maria Santissima dell'Alto si spende per portare avanti le attività in questo luogo sacro, ma anche un progetto importante che è quello di restauro, di riqualificazione di quelle che sono le parti storiche. Qui c'è tanto anche sul piano archeologico, non dimentichiamolo. Ma andiamo per ordine. Intanto i festeggiamenti in onore di Maria Santissima dell'Alto sono un momento annualmente importante che non va ridotto certamente a ciò che viene effettuato sul piano religioso tra i mesi di agosto e settembre con la giornata culminante che è quella dell'8 settembre, ma tutto l'anno questo luogo sacro effettivamente è molto molto importante qui sulla vetta della montagna al cane di Sedon Enzo. Sì, ma questa è una meravigliosa eredità che abbiamo ricevuto e che è viva. Ho avuto la gioia di riceverlo anche dai miei confratelli e dai tanti laici che si sono spesi, ricordi bellissimi, alcuni sono già in cielo, che ho conosciuto e che ho apprezzato e offro per loro un ricordo particolare. La vita è la vita di tutti i giorni perché la distanza dalla città non ci allontana, non ci separa minimamente, anzi la sentiamo più viva che mai perché diventa anzi un luogo di grande interiorità per sentire la pienezza, il valore che ha ogni giorno, ogni impegno, ogni scelta, ogni avvenimento che accade e che riguarda tutti, ognuno, non solo chi si conosce, ma quello che sta a cuore in una comunità ecclesiale e civile di un popolo come il popolo alcamese. Abbiamo la gioia di ricevere, dicevo, questa eredità che nel nome di Maria, nel segno della sua presenza materna, ha dato tante grazie. Io dicevo da sacerdote, ricevo in ascolto tante confidenze meravigliose e che le persone considerano veramente grazie che ricevono da Maria e sono lieto e felice di poter essere testimone di questo. Un momento di commozione da parte di Don Enzo. Io sono testimone, diciamo, delle volte che mi sono rivolto a lei e che ho avuto appunto un aiuto. Un aiuto, Don Enzo. Essere sacerdoti non prescinde dall'essere uomini ed effettivamente essere uomini significa anche rispettare la natura. Tante volte abbiamo affrontato l'argomento relativo a ciò che di naturalistico deve essere preservato. Ancora una volta, nelle scorse settimane, abbiamo dovuto fare la cronaca di incendi, di istruzione del patrimonio naturale, anche qui sul Monte Bonifato, ma anche altri luoghi che veramente ci hanno destato molta impressione. Tanti incendi, veramente atti criminali, quasi veramente, possiamo definire, terroristici. Sì, è un dramma che ci interpella, ci provoca e ci chiede la massima presenza di tutti. Veramente, a cominciare dalla mia, nel senso che chiunque di noi può fare qualcosa con la vigilanza, con le parole, con il buon esempio, con il ricordo, con l'impegno, con tutto, tutto, tutto. In ogni momento, non solo mantenere alta la guardia, ma pensare sempre a quelle vie nuove che possano ripristinare, migliorare, restituire, direi, ossigeno futuro, ecologia a questa nostra parte di mondo, a questo territorio. Ed è veramente prezioso e spero e prego, chiaramente anche la congregazione ha una sensibilità speciale a questo e cercheremo di aumentare ancora di più la disponibilità per collaborare con la città e con tutte le istituzioni proposte perché questo accada. Si è avuto l'opportunità di ottenere un finanziamento PNRR, nell'ambito PNRR, proprio per valorizzare questo luogo e quindi effettuare degli interventi di restauro e anche di abbattimento barriere architettoniche, altri lavori necessari per porre le basi per un futuro di questo santuario e non soltanto, anche di ciò che è di storico. Qui parliamo di un santuario, questo della Madonna dell'Alto, che affonda le sue origini nel Seicento, è giusto Don Enzo? Certo, ha detto benissimo ed è un dovere e un valore, un valore in cui ci guadagniamo tutti perché la storia appartiene a tutti e perché il rispetto delle bellezze che ci hanno lasciato venga custodito, venga ampliato e reso anche al sicuro con tutte quelle tecniche che migliorano continuamente anche gli edifici. Ma insieme a questo grande valore storico, insieme alla sensibilità e alla presenza in questa parte di Bosco, di questa realtà, sono diversi gli elementi che uniscono il grande valore spirituale a quello appunto storico, archeologico, ecologico e così via. Faremo di tutto perché questo vada a compimento appunto nei tempi previsti e quanto prima felicissimi di poter offrire, siamo certi che tutta la cittadinanza sarà lieta di poter godere ancora al meglio e al più questo tesoro che appartiene a tutti. A tal proposito attiva l'associazione Maria Sinissima dell'Alto che ha sede, qui parliamo della chiesa della Madonna del Riposo che è anche parrocchia, giusto? Don Enzo, dunque, ecco, ci puoi parlare anche brevemente di questo? Sì, la parrocchia Madonna del Riposo è attiva e attualmente è affidata anche a me e a Padre Viola, parroco insolido con me e quindi è anche questo bene del santuario nel territorio di questa parrocchia. Di questa parrocchia che ha anche la sua funzionalità perché la viviamo come un luogo di alcune azioni di volontariato, lo utilizziamo anche per fare dopo scuola come sanno bene i ragazzi, momenti di preghiera per le prove di canto, per qualche momento di ritiro e quindi al massimo di quello che i servizi e anche i locali disponibili possono rendere. E come diceva bene, nel rapporto a questo anche santuario in cui verte proprio, diciamo, la responsabilità giuridica ma tutta la sensibilità che poi è l'unica comunità vivente, viva, che ne usufruisce e che ne dispone al meglio. Grazie Don Enzo che adesso lasciamo andare a riposare o comunque a rifocillarsi, a recuperare le energie dopo questo lungo perlegrinaggio, fatto tutto in salita, occorre evidenziarlo. E vorrei passare la parola a chi per la congregazione, come diceva all'inizio, si spende proprio per portare avanti le attività relative alla vita di questo santuario, di questo luogo sacro che è veramente importantissimo, meta anche di turisti e questo non dobbiamo dimenticarlo. E qui con noi è il Presidente della congregazione che si chiama Matteo Calvaruso. Sì, come diceva lei, c'è tanto lavoro per mantenere questo luogo in un certo senso abbastanza pulito, accogliente. Noi tutte le domeniche, tutto l'anno è sempre aperto il santuario, facciamo questo servizio con la guida spirituale di Don Enzo a cui veramente gli do atto che si spende in modo egregio, superbo e ci ha inculcato una fede particolare per la Madonna dell'Alto. E quindi io sono orgoglioso di appartenere a questa congregazione, di spendermi per questo santuario e per gli Alcamesi, perché dobbiamo dirlo, solo gli Alcamesi. La Madonna dell'Alto è degli Alcamesi e di tutto il popolo che ci viene a trovare. Quindi approfitto di questo momento per invitare tutti gli Alcamesi che ha la possibilità di venire giornotto a trovarci, perché ci sarà la nostra festa, chiamiamola la festa, che poi non è altro che luoghi di preghiera e luoghi in cui si può veramente, con una concentrazione particolare, dedicarsi anima e corpo, quell'oretta, quella mezz'ora, quei cinque minuti, quel giorno, quello che si vuole. Ci sarà una processione a mezzogiorno? Sì, ci sarà, quest'anno abbiamo la presenza del nostro vescovo, ci sarà la processione, ci saranno la benedizione delle mamme in attesa e dei bambini, ci saranno tante messe dalle sette alle otto e trenta, alle dieci e trenta, e poi la sera alle sei ci sarà di nuovo la messa e quindi faremo veramente tanta chiesa, via. Però la voglio fare una domanda, lei se non sbaglio fa parte del corpo forestale? Sì, sono un operario forestale, sì, un operario forestale che ho vissuto in prima persona, quello che è successo a luglio qui. E quindi lei può certamente manifestare una certa sensibilità verso quelle che sono le opere da attuare per non soltanto preservare questo luogo sacro da atti di violenza, di barbarie, ma tutto ciò che c'è attorno, parliamo della riserva Bosco d'Alcamo appunto. Allora, a mio parere ci vuole molta prevenzione, prevenire, prevenire, prevenire e soprattutto un po' di vigilanza, un po' di vigilanza perché io mi riallaccio quando veniamo qui e troviamo delle situazioni poco piacevoli al santuario. Ragazzi sono ragazzi, abbiamo avuto pure dei danni fatti così, però un po' di prevenzione. E soprattutto questo benedetto parco, come lo chiamano adesso, di dargli un po' di cura, curarlo, è troppo in abbandono, troppo abbandonato, perché la natura sta facendo quello che fa la natura. Se si abbandona tutto, diventa un cespuglio, il sottobosco è troppo. Io capisco la riserva naturale, dobbiamo preservare la flora, la fauna, ma anche il bosco ha bisogno di essere curato per mantenerlo più pulito, più le strade più... E soprattutto sensibilizzare con la presenza, perché è un bene troppo bello per gli alcamesi. Noi lo vediamo tutto l'anno, perché ogni domenica apriamo, vediamo che tutto l'anno le persone vengono, vengono a passeggiare, a fare... però... siamo qua. E c'è qui accanto a lei anche un altro componente attivo della congregazione, ecco, si presenti anche a lei, buonasera. Buonasera, Gaetano Coppola. E ci dica, dunque, quanto è difficile, per voi è certamente appassionante fare parte di questa congregazione, oltre che essere un atto di fede, ma quanto è difficile portare avanti certe attività? Difficile non è, perché lo facciamo con amore, con cuore, e quindi non è difficile. Diciamo che la passione poi c'è, la voglia pure, la dotazione alla madonnina, e quindi siamo attivi al 100%. Non è una cosa difficile. Allora, appuntamento alla mattinata dell'8 settembre. Chiaramente qui le celebrazioni proseguono tutti i giorni, e di conseguenza possiamo ricordare questo momento tradizionale dell'8 settembre. Tradizionale significa anche che ci aiuta a ricordare certi eventi come le cosiddette vamp, le fiaccolate che venivano effettuate qui. Si è perso molto anche di questa tradizione, per tanti motivi legati a ragioni di sicurezza, ma anche c'è la necessità di valorizzare il patrimonio linguistico con le poesie, le recite in siciliano, ad esempio, che sono state sempre tradizionalmente fatte qui in occasione di queste celebrazioni. Ne farete anche quest'anno? Quest'anno le poesie non ce le saranno, perché qualcuno manca, è mancato, però ce le faremo, ce le faremo. Lo speriamo, perché è importante mantenere vivo il patrimonio linguistico locale. Sì, lo faremo sicuramente, miglioreremo tutte le cose. Come precedente siamo una bella squadra, speriamo che aumenti questa squadra con i giovani che ci venivano all'incontro, e che la porta sia aperta, ma donna ci aspettano. Grazie a tutti.